Il Signore degli Anelli è un romanzo eccezionale, fuori da ogni definizione critica. Avventure in luoghi remoti terribili, segreti paurosi, draghi crudeli, città d'argento e di diamante, necropoli tenebrose, creature straordinarie e generose come ad esempio gli Hobbit, maghi, elfi, orchi e chi più ne ha più ne mette. E tutto questo in un mondo immaginario. Quest'opera immensa di Tolkien è in realtà un'allegoria della condizione umana, che ripropone in chiave moderna i miti antichi. A mio modesto parere è un libro indimenticabile, tra i più belli che abbia mai letto ed ha un effetto salvifico su chi lo legge.